I pesci dedicano al partner tutta la loro esistenza. Ma tu sei un uomo. Dedicarti a un'altra persona può portarti su ad una cosa. Essere inesorabilmente fottuto. Un giorno qui do. Soli di dieci minuti. Mamma, dove siamo? Nella mia sega. Sparisci. La masturbazione, ormai, fidati. È meglio anche di un rapporto di coppia. Masturbazione? Sì, e poi adesso con il metaverso. È meraviglioso. Pensa che qualche giorno fa mi sono scopato Ilari Blasi. Ti è scopato Ilari Blasi? Ti spieghi che problemi hai qui. Ti devi sbloccare. No! Madonna, ho comirato. No, 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 no. Cabina 2. Spogliati. Il tutorial di questa settimana è farsi le pugnette con le anguria. Sorpresa! Tu sei pieno di rabbia. Mi hai fatto licenziare. A me. Non sta bene, è peggiorato. Problema tanto tua testa. Tu sei? Quello stronzo che ti ha fatto licenziare. Che cazzo di posto è questo? È una fantasia, no? Ma che te sei innamorato? Qui sto sotto di te. Ti sei mangiato la parte migliore. Eccola qua. Anche io parto sempre dal cuore perché è la parte più polposa. Ho. Eccola. Mmmmm!